Se lo spreco di cibo fosse una nazione sarebbe tra le nazioni al terzo posto per causa di inquinamento nel mondo dopo gli USA. È da queste parole che l'assessore all'ambiente Maraschio parte nella sua riflessione che consente di lanciare e di anticipare la campagna contro lo spreco alimentare e la promozione dell'economia circolare da parte della Regione Puglia. Noi dobbiamo ritornare e immaginare la possibilità che c'è un modo per tornare indietro perché tutto questo non diventi veramente insostenibile. Ce ne siamo occupati nell'ambito della strategia per lo sviluppo sostenibile della Regione Puglia, uno dei focus più importanti. E quindi oggi, in questa giornata, volevamo anche confrontarci su questo tema e soprattutto avviare una campagna di sensibilizzazione senza colpevolizzare i cittadini pugliesi. Ormai siamo abituati a considerare tutto merce. Il cibo non è una merce. Il cibo dobbiamo immaginarlo come un bene comune. Dobbiamo poter intervenire. Ad esempio, noi stiamo facendo un investimento importante sugli orti sociali. Anche quello è un cambio di cultura. Produciamo meno, consumiamo meno, ma soprattutto consumiamo ciò che serve. Questo è utile per noi. E' utile anche a chi non ha la possibilità, diciamo, e non ha la possibilità di comprare cibo, diciamo così. Grazie. Grazie.